Il 8 e 9 giugno 2024 è risultato eletto il sindaco Giuseppe Drovecchi. Lo invito pertanto a quest'ultimo a procedere al aggiornamento con la seguente forma. Giuro di agire nell'interesse di tutti i cittadini, di osservare realmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento locale. E' appunto la stima per questo nostro secondo incarico. Bisogna essere un secondo mandato per qualcuno di noi e ovviamente per il primo, per molti di noi. Voglio ringraziare tutti i neo eletti e ne approfitto ovviamente anche per augurare un buon lavoro a tutti noi e soprattutto anche al gruppo di minoranza, soprattutto nel lavoro in armonia nel bene del nostro paese, di Barbania. Come nel precedente quinquennio, noi come amministrazione saremo sempre a disposizione di tutti e ovviamente ascolteremo sempre tutti sia critiche e soprattutto suggerimenti accettati ben volentieri da tutte le parti, anche dalla minoranza, perché ovviamente solo così si riesce a fare il bene del nostro paese. Vi ringrazio e grazie a tutti di essere qui presenti e così continuiamo con il consiglio. Grazie. 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 Grazie.